I consigli delle farmacista in primavera, Fiorisci in primavera è un'iniziativa a cui hanno aderito una rete di farmacie in tutta Italia, a Caltanissetta la farmacia Messana, in Sicilia sono nove in tutto. Quindi date dei consigli per stare bene in primavera e per stare ancora meglio in estate, arrivare meglio all'estate? Non solo, in effetti, il progetto Rete Farmacisti Preparatori è un progetto che mira a creare una forma di collaborazione, di cooperazione tra una serie di farmacie in Italia che sono quelle farmacie che con maggior attenzione si dedicano al campo dei preparati galenici, alla personalizzazione dei trattamenti nel riguardo dei clienti. Infatti ciascuna farmacia della Rete Farmacisti Preparatori ha delle linee di integratori, di prodotti naturali, di prodotti salucistici, di cosmetici personalizzati a marchio della farmacia. Il progetto mira ovviamente a dare adeguata informazione, a far sì che i nostri clienti, che noi chiamiamo amici clienti, abbiano non solo la necessità di acquistare prodotti, ma di condurre una vita con buone prassi. Nel caso della primavera, la primavera noi diciamo è la stagione nella quale si rifiorisce, è la stagione che ci prepara all'estate, è la stagione nella quale le donne in particolare, ma anche gli uomini cercano di mettersi in forma, di arrivare pronti ad affrontare le vacanze estive. E quindi formuliamo dei buoni consigli, ad esempio idratarsi bene, idratarsi bene non bisogna comprare nulla, bisogna bere adeguatamente, bere una buona acqua oligo-minerale, farlo spesso e cercare di idratarsi. Prepararsi all'esposizione solare, ci si deve proteggere sempre dal sole, dall'eccesso di esposizione solare, ma si può assumere ad esempio del beta-carotene, che fa sì che ci si brucia con maggior difficoltà e che la bronzatura duri di più. Ci si può depurare l'organismo con sostanze naturali, come il tarassaco, per esempio, che è una sostanza depurativa, che agisce a livello del fegato e aiuta complessivamente l'organismo a depurarsi. Bisogna aumentare l'attività fisica. Insomma, noi vorremmo che i cittadini acquisissero buoni prassi, vogliamo mettere a disposizione al servizio dei cittadini l'esperienza dei farmacisti della rete. Peraltro, questi consigli sono fruibili su internet perché c'è un sito, che si chiama retefarmacistipreparatori.it, dove queste informazioni vengono date e dove è anche possibile trovare l'elenco delle farmacie italiane che aderiscono a questo progetto.